un piattone chirurgico è stato il tiro di mattia gaddini che ha sbloccato questo match poi finito 3 a 1 per gli amaranto tra l'altro mattia sei stato protagonista di un grande match intanto buonasera a tutti ti ringrazio il protagonista del grande match è stata stata la squadra abbiamo fatto una grande gara penso che l'abbiamo interpretata giusta nel modo giusto da dall'inizio infatti abbiamo visto abbiamo fatto col subito e questo era l'obiettivo di oggi era questo era venire qua e fare bene vincere e l'abbiamo fatto e adesso pensiamo alla prossima gara è stata una giornata speciale anche perché l'arezzo con questa vittoria approfittando anche del passo falso della pianese riconquista la testa della classifica si si è detto bene oggi che noi avevamo una gara difficile e venire a vincere qua era sarebbe stato un bel colpo lo sapevamo loro hanno hanno fatto un passo fa un passo falso che sappiamo che il campionato è lungo quindi noi ci crediamo sempre come ci abbiamo creduto dall'inizio quando abbiamo avuto dei periodi no ci crediamo ogni volta anche quando vinciamo e allo stesso modo quindi quindi niente è stata una grande vittoria in più con loro che hanno fatto un passo falso è stato doppio quindi sei punti ti chiedo come hai vissuto questo periodo così tribolato per te dal punto di vista personale se ti aspettavi di giocare dall'inizio l'ho vissuto ho cercato di viverlo nel miglior modo possibile grazie a tutti a tutti alla mia famiglia alla società squadra a tutti sono riuscito a vivere forse anche meglio di come di come sarei riuscito a vivere da solo e perché non è stato per niente semplice infortunio rientro infortunio rientro insomma un po così però stiamo cercando di mettere a posto tutte queste cose e spero che insomma spero di stare bene fino a un fondo all'anno e no non mi aspettavo per niente di giocare dall'inizio però diciamo che quando insomma quando il mister mi ha provato ero felice ero contento sapevo che sicuramente non avrei potuto fare 90 minuti e neanche 80 e quindi ho cercato di dare tutto quello che avevo per 60 minuti che ho fatto e invece ti chiedo quanto pesava quella palla quando si è andata a metterla sul dischetto perché dopo tutti questi errori compreso quello di convitto non era un rigore facile da mettere dentro e non era un rigore facile da mettere dentro sono d'accordo però ti dico la verità in quel momento non ho pensato tanto ai rigori sbagliati o altro diciamo che ho cercato di concentrarmi io di solito mi tiro in un modo e eravamo sull'1 a 1 insomma era un importante quindi ho cercato di di tirare sul più sicuro ecco e centrale per me era era il tiro più sicuro quindi sono andato lì è andata bene che il portiere si è buttato prima e ho fatto gol ti chiedo una dedica dai per questa doppietta la dedico la mia famiglia in primis mio padre mia madre e e anche la mia sorellina che insomma mi aiuta sempre a strapparmi un sorriso quando quando ce n'è bisogno e poi a tutti loro che sono sono fantastici siamo un bellissimo gruppo una grandissima famiglia io io direi staff società ragazzi tutti grazie